Salve a tutti Salve In questa quattordicesima puntata e la c'è uno scheletro che vuole ci vuole accoppare in questa puntata andiamo a costruire l'acquario lo suggerito già nella tredicissima tredicissima puntata qui c'è una bella casa si molto carina e sex e la c'è il nostro sex sex scheletro dove lo andiamo a costruire l'acquario allora io avevo pensato per sfruttare anche l'ambiente perchè non è che viviamo soli in quella zona ci dobbiamo estendere all'anissima potenza bella idea e lo dobbiamo fare anche questa volta e anche questo qua grande questo è quello ieri che si era infatti ce n'è uno solo perchè l'altro l'abbiamo occupato l'abbiamo allusillato mi dispiace tu lo devi aver preso per il ciugo non ti ricordi che è spione wow il ciugo e spiato promettimo di ammazzare l'ultima puntata va bene un panino scavo un po' io eh si hai ragione ok allora di quanto scaviamo? non lo so ma non tanto facciamo grande scavacelo col buco così? no devi andare con la con la no devi andare con la aspetta che la cambio eccola qua no 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 usa quello la che già hai usato ok quindi di quanto vuoi entrare? no 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 ma se però deve essere una cosa mastodontica è grande eh perciò perciò dicevo quella scuola però non mi asqua troppo perchè altrimenti poi usciamo dall'altra parte no 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 però eh per adesso ci fermiamo la perchè hai il diritto di giocare come ogni essere umano mani di mine perchè perchè sono inemicibile appunto il mio unico potere è quello di far giocare la gente a minecraft omenide quando vuoi fare questo? ecco no eh mi pare paria no mi devi dire tu quando l'hai pensata? perchè guarda io lo volevo fare grande guarda è una cosa per come tipo la casa grande allora aspetta facciamo e poi dobbiamo pure scegliere se sopra deve essere coperto dalla terra oppure libero eh no sto eh sto partendo da una cosa perchè perchè poi io avevo una cosa ultimente per il problema perchè non abbiamo i coralli che poi i coralli in realtà muiono si fanno grigi se non li metti in acqua si fanno grigi per l'acquario pesci a gogo piante alghe e ci vorrebbero i coralli ma metterli coralli adesso non ce l'abbiamo quindi adesso facciamo tutto tranne che mettere i coralli perchè non li metterli in nel momento in cui li avremo coralli si parte così o su che mi consenta di sprigionare le mie idee artistiche mi ha detto che ho visto le poche gioie che ho mi serve il mio spazio artistico mi consente dobbiamo fare un bel video per gli oscuro come kribio ma kribio dobbiamo fare kribio dobbiamo fare kribio mi ha scappato il kribio 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 procediamo con una scava mi consente però devo farlo uguale devo scavare di qualche cosa no mi trovo con vabbè ma tu il centro non hai detto che questo ingresso che ho fatto il centro si vuoi che quello sia il centro? benissimo la scavacalla uguale ai blocchi io pensavo che quello che ti servisse solamente il ingresso per entrare e scavare qua dentro ma no quello sarà l'interesse ma non deve essere ingresso quello deve essere chiuso di litro cosa? la quale deve essere il centro no ma dentro entriamo tipo come se fosse tipo c'è l'acqua park che c'hanno tutta il posto marino e poi si vede gli acquadi quindi tu non vuoi fare un singolo acquario? no voglio fare con una una sorta di acqua park c'è tipo qua per dire mo sto pensando la sto buttando così se qua tipo sta l'ingresso qua si può costruire un parco acquatico vedi che scende pure vabbè vediamo eh non basta la volta poi realizziamo anche questo mo cominciamo intanto comunque se tanto comunque se lo facciamo quando non avremo idee dobbiamo fare questo forza qualcosa no ma a parte voi perchè dobbiamo andare in vacanza e quindi siamo con un bel po' di video un bel po' di video quindi costruiremo accesso un bel po' di puntate stanotte faremo le tre perché anche perchè poi siamo anche efficienti perchè mo abbiamo fatto la tredicesima e mentre mentre facciamo la quattordicissima la tredicesima si sta si sta masterizzando no no masterizzando si sta estraendo estraendo quindi mentre diciamo facciamo anche se non il termine però mentre si sta editando da solo il video e che si estrae il video noi facciamo un'altra puntata quindi poi se facciamo la quindicesima in questo preciso te lasso di tempo mentre facciamo la quindici la quattordici sta a si sta a estraendo a si 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 perchè allora non è che stiamo dicci domani parti no abbiamo ancora una settimana per mai ma no perchè tu devi partire devi andare con una con un'animatrice ok ok quindi procediamo e scavando si scava queste queste cose si sa queste bagianate si dicono quando non sai che dire per non stare in silenzio di volumare qualcosa strupidata 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 vedo gli questi qua e vediamo quanto è grande così in modo che si va bene ma intorno poi ci vanno i blocchi di vetro esternamente si vedranno tutte queste rocce così grezze si perchè deve essere coperto deve essere una cosa mistica come se fosse un portale che ti porta alla porta della porta del portale e sai che si può fare anche adesso che mi stai facendo pensare quell'ingresso che abbiamo creato si vuol lasciare così si vuole per avere la gestiamo io ho fatto così sicuramente non sto pensando immagina di fare in una una galleria scegli non chiudere in modo che possiamo passare sotto e c'è la cuore sopra intorno si ok ok così va bene secondo te non lo so ah non lo so io guarda ah non lo so io guarda allora se dobbiamo esagerare ancora più grande ma si quindi vi do che vi chiede tempo quindi probabilmente veramente ci escono almeno due se non tre puntate no poi annoia eh ma se non lo finimmo ma comunque le cose alcune cose le possiamo off camera off camera in modo che non gli facciamo due zebbe dei cosiddetti zebbe dei si può dire non è volgale zebbe dei non è volgale attributi 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 se ci cercano di usare quella di più quelle pulite possibili dai a mia perché lo sto facendo solo perché so quante è balloso andare a controllare se salta siamo proprio puliti per il momento catalitici filtrati filtrati ti ho detto a me non paghetti l'appendice di youtube però se potessi smadonare un po' no mi dispiacerebbe eh ma devi contenerti oh my god fratello pace fratello pace amore certo forella pisello pisello è un mob pisello mob la da a a mamma mia madonna mamma 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 ah grande amico c'era un'ama così selvatico o lo zombie stupido ah birichino birichino ecco qua è andato birichino allora come sa ah perché giusto vabbè sai che faccio se non ho scocciato vado ad dormire eh per forza sì se non vediamo se mi mordono se mi mordono sono fregato oh no 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 ti giuro diventa sporca questa puntata abbiamo una casa fatta apposta perché l'havamo fatta così metto a te ecco qua oh mio dio quando c'è l'ho dio si può dire si quando c'evo c'evo oh ma ecco qua aspetta voglio assistere alla sua bruciatura oh questo è un fuoco e se lo riparavamo ma si riparava tanto che ora mai è bruciato m'ho buttato così una spada così free free ok non muori bene amico mi dispiace non sarò family friendly stavolta tua madre ecco qua è brava la madre è una brava donna ok non si può dire una donna dei facili costumi beh si è una donna dei facili costumi è proprio per essere sporchi ma puliti donna dei facili costumi si bisogna un creeper insomma è una brutta polla una polla una pollastra no pollastra no pollastra è un pull no mia amici c'è il lama mannaggia ah 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 no no mamma mamma sono su youtube ah è quel lama vai gay uh 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 ok abbiamo scavato un altro po' un altro po' di spazio allora vediamo manzo tu manzo con il materiale quattro cinque uno due tre quattro i no ho scavato ah faccio faccio faccia mia in realtà avrei detto un'altra cosa come faccio e lo so e io sto facendo bravo sai già no devi lo dì ma il problema è questa un'amica che ce l'ha un servizio buono fa lo stesso di un'estate fa ma vorrei io un'amica così ma tutti vorrebbero un'amica così sa sicuro un po' di giove forte questo no vedi non siamo non siamo sporchi perché sono allusioni certo ma se una buona amica mi ha un servizio buono fa una buona amica noi stavamo su una buona amica mi diciamo ci sono deciso abbiamo anche una è un topo in femminile in gergo femminile forse volevi sbagliare mi resta calmo ma che non lo so in gergo femminile molto dispregiativo certo che inizia con la z zuzzeri luna sozza zizzeri luna mandrillo cosa c'ha questo e cosa c'ha questo cosa c'ha questa eh cosa c'ha questa che non va eh i suoi addominali scolpiti nell'argento l'ardominali l'ardominali allora dobbiamo solo scavare verso di qua allora giorno c'era il clima ma come aveva fatto una roba mastodontica era una partita se deve essere grande o deve essere grande cioè se la puntata di cioè se la puntata che mostre dite sta estraendo cioè sono 40 minuti di puntata pensa a questa se nemmeno a un'ora e quaranta vabbè sai qual'è il problema ma vedi vedi che quella è sua mamma è una donna dai facili ricordo che un po' tardi quindi evite di urlare ma ti ricordo che dobbiamo fare video e dobbiamo divertire dobbiamo intrecchiamo di web e in trenti ma non so come si dice sementando mille pedi pesi sementando mille pedi pesi ma non so se già l'ho detto perchè può darsi anche che aveva detto una cosa mi sono scordato di averla ditta ma un mio amico che anche era un canale youtube a te te l'ho detto c'è così per parlare inizia tipo mi guardo 300 iscritti facciamolo ovviamente ma te la possiamo anche fare però vabbè vabbè la coda come vabbè si chiama anche il domenico ah ah si chiama anche il domenico vabbè comunque quando hai detto che gestivo in parte un canale mi hai chiesto quanti siti hai detto 2000 e ti ho fatto ah allora sei famoso oh my god hai detto ti sbaglio è come se avessi 300 iscritti bravo vabbè c'è un po' come quando un po' come un po' come youtuber tipo surri ha 2 milioni di iscritti e fa 500 mila visuale per dire non è che tutti e 2 milioni sono attivi eh certo non essendo mai cosa quindi pensa a noi non sono attivi 2.050 no ma secondo mi guarda nessun canale c'è tutti gli iscritti no ma eh sì certo però non penso che tutti gli iscritti dai ma sua mamma però siamo tutti i attivi non credo non esplode non lì e chi lo andiamo possibile io mi dico io uccido io uccido te negro neggi il muore qua ok senti vedi coca ma che vuole a coca cola no ma che vuole ah ma vende le alghe no vendi pesci no no non te ne andare vuoi scimmare non mi recuperiamo no cioè si però facciamo che ora ti questo non è il rapimento è solo sto solo usando sono solamente imbrigionato per fare gli affari nostri ecco ora non scazzare la mimbia la tibia e ti copro anche perché so che tu morirei se il perito è morto sei da sicero aspetta Jimmy senti ti voglio bene ma non scappare no dai così non scappano ok qua abbiamo coperto qua ho scavato tutto quindi sono vabbè partiamo da qua 1 2 3 4 5 se io partiamo da qua 1 2 3 4 5 ok ora vogliamo iniziare a farci qualcosa il vetro no cioè dobbiamo costruire dobbiamo fare il pavimento come lo facciamo quindi quando tu entri in un'acqua park com'è il pavimento allora di solito sono usati colori si del mar blu azzurro bianco come devo dire siamo nella melva siamo guai a dirla ok perché l'apis non ce li ho altrimenti dobbiamo ovviare diamo su aspetta ora cosa abbia limite perchè se abbiamo solo quello facciamo un attimo tutto di colorante ok serve la lana ma non ce l'abbiamo quindi visto che siamo poveri ora siamo due voraci due voraci poi sai se c'è qualche romano sta guardando e dice oh mio dio ma che se voglio parlare pure romano eh no no ognuno è il suo dialetto noi scherziamo uè fega una pulità sottrazzata il resto scherzo faccio shifu marrancio scherzo e anche oggi si va a dormire anche il giorno fu ah posso fare la polvere di calcio e struzzo ahhh guarda come è fatta vediamo vediamo se pure si rende è fatta no è fatta si è fatta la ragazza si è fatta è fatta mano a me vediamo si guarda come rende ti faccio subito io che fanno oh my god si mette così 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 si fa il calcestruzzo guarda quando tu lo bagni guarda questo è un blocco di calcestruzzo facciamo così così ti faccio rendere conto devi rendere conto vedi come diventa no così va bene eh sì pensavo di sì ma guarda forse vuole grizzo grizzo non è male ma però grizzo si si vede che è grizzo capivi guarda che forse è meglio grizzo sai no grizzo no se non è una novità d'altro tu dici forse per il forse per il il t no che lo cade se non è ma vabbè mettili così se ti convivai più ma grizzo non mi dispiace anzi allora l'obiettivo non è un altro dobbiamo prendere un sacco di ghiaia ma noi ce l'abbiamo perchè noi siamo ricci ricca io ero riccio sono liscio anzi sei free no sei free 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 air ti ah beh guardi la tv siti certo vado in piscina e mi dobbiamo mettere la gufia non è poco eh 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 ma stai grande adesso scordato il dettaglio ah ok ah no la ghiaia guarda qua 40 abbiamo altri 48 allora si fa così se no perdiamo tempo guarda tanto basta che ci metti l'acqua sopra e si diventa quindi la mettiamo tutta tutta la grezza e poi la vuoi bagnare mi è sfuggita quell'unica volta mi è anche sfuggita di di lingua non gaffare parecchie poi Simone ti mette in croce bastardo ti verrà a prendere ah intanto Simone si divertirà molto a Procita vero Simi? vero che ti stai divertendo a quell'Aprocita speriamo che poi quando mettiamo le puntate se le spara non se le sparerà mai ma neanche questa ah almeno da me la rimane che finisce assai eh si mi piace no ma noi siamo fortunati no ma noi siamo fortunati si è raggiunto se mi ti vogliamo bene però se un basta se un mi ricino mi ricchina se un mi ricordo monella 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 sei una monella poi ci risulta luna ma stica sarà un po' tardi sarà un po' tardi ma inutile signor stark è inutile ah beh pensavo più tardi e mezzanotte un quarto ah vabbè da dove in dieci sera siamo andati a dormire a luna e non abbiamo concluso niente quindi quindi c'è tempo con code con code poi code e merluzzo veramente code anche se si chiama call of duty l'abbreviativo è code però però code stava merluzzo mi ho giocato a merluzzo mi ho giocato a sushi bar oh 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 no no mamma mamma ti voglio bene ma che buono sushi ma io non sto per albino a monella da daino no 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 la cosa io ti faccio avvicinare per chi devo devo stracciare no mi sono i villager no me l'hanno ucciso e' molto molto free fiera di in particolare le polizia non arrestarci ma abbiamo visto molto pirata molto piratisco pirata mod, però la polizia ci vuole bene vero fbi open up e così venne arrestati per pirati arrestati youtuber non famosi però che non famosi però sentiamo famosi se vieni polizia sono qui andiamo ad arrivare 4 5 e 5 ok da che non avevo la ghiaia ora non la sabbia perchè prima o poi qualcosa deve mancare e queste anche per chiedere gioie non ci sono ok a qua in realtà dobbiamo mettere di animali ma non li metteremo mai si perchè c'era una volta c'era cernobil perchè c'era c'è stato cernobil in questo mondo infatti se vedete bene i fiori sono blu ma questa è una mutazione c'era c'era fatta di pietti 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 la città la se glogo da mischi di pietti 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 la cosa del genere comunque non pensiamo alle disgrazie del mondo nel senso che non però già ce l'abbiamo acquario pensare è una malacquario allora pariti 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 è più bello una striscia grezza è una liscia alternate si, secondo me si fa un bel effetto mettiamo gli ultimi blocchi e poi possiamo andare tutti al paese al paese, guarda qua al pacino, vedi come fa? è un bel al pacino? secondo me va bene anche l'altra così, di fronte poi la possiamo fare anche off camera certamente, ora è giusto per renderci contro cui lo dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare su questo sfondo spero che questa quattordicesima puntata io dico sempre video se è così lasciate like, commentate condividete con nonni nonne, pro g pro nipoti al prossimo al qualidio